Ricerche a lieto fine per un anziano ragusano con disturbi di memoria che sfuggendo al controllo dei familiari si era allontanato da casa senza fare più rientro. La segnalazione al numero di emergenza 112 dell'allontanamento dell'anziano da parte dei familiari dell'uomo preoccupati per l'assenza e le sorti del proprio congiunto perché sofferente di disturbi di memoria correlati all'età ha fatto scattare immediatamente le ricerche dell'anziano di cui da alcune ore si erano perse le tracce. Le volanti della questura allertate dalla sala operativa hanno perlustrato la zona dove abita l'anziano rintracciandolo mentre girovagava in buone condizioni di salute ma impaurito e in evidente stato confusionale. L'anziano è stato quindi tranquillizzato dagli agenti e ricondotto nella propria abitazione dove è stato affidato alle cure dei familiari che hanno potuto così tirare un sospiro di sollievo. Si è conclusa a lieto fine la disavventura dell'anziano che grazie all'immediato intervento degli operatori della polizia di stato ha potuto far rientro a casa senza gravi conseguenze. Dalla questura rimarcata anche la mission quindi della polizia un episodio infatti che mette ancora una volta in luce l'operato degli agenti impegnati non solo nell'attività di tutela dell'ordine pubblico di prevenzione e controllo del territorio e di repressione dei reati in genere ma tutte quelle attività di prossimità che quotidianamente vengono svolte in silenzio dalle donne e dagli uomini della polizia di stato a tutela dei cittadini con particolare riguardo e soggetti appartenenti alle fasce più deboli come in questo caso anziani ma anche donne e minori a cui viene prestata particolare attenzione e assicurato il dovuto sostegno nelle difficoltà.